Dovrebbe essere una delle big del torneo, con proclami importanti ad inizio stagione del presidente Pelligra. La sua celebre frase potrei investire 100 milioni per riportare il Catania in serie a rimbomba, ancora nella testa dei tifosi catanesi che hanno dovuto però fare i conti con la realtà e con un avvio di campionato piuttosto complicato. Il Catania, dopo aver allestito una rosa importante, con colpi di mercato di categoria superiore come Chiricò, Marsura, Silvestri, Curado, Di Carmine ed in ultimo il centrocampista Zanellato, ha collezionato solamente 12 punti in 9 partite. Il pareggio sul campo del Monterosi al 93esimo è stata una doccia fredda per i 200 sostenitori etnei al Bonolis di Teramo. Sul banco degli imputati c'è chiaramente mister Tabbiani. Un po' di scetticismo accompagnato all'ex tecnico del Fiorenzuola già dall'inizio della sua avventura in Sicilia, per qualcuno non adatto al campionato che dovrebbe disputare il Catania, per altri sì. Avellino sembra l'ultima chance per l'allenatore che avrà dalla sua però alibi importanti L'infermeria è colma di nomi altisonanti, Di Carmine non ci sarà, Domenica in fortissimo dubbio anche Marsura, Silvestri non è al meglio così come Quaini che potrebbe essere l'unico a recuperare. Centrocampo falcidiato dagli infortuni, Rocca, Deli e Zanellato sono out. Insomma una situazione non facile da gestire per Tabbiani che sente il fiato sul collo di un possibile esonero se le cose dovessero andare male nel big match contro un Avellino in forma strepitosa.